Musica Ma buongiorno a tutti e ben ritrovati ancora una volta su Kona Qui è una tiepida mattinata di primavera come potete vedere E le bestemmie volano felici in cielo Allora, oggi voglio tentare di esplorare la parte del gioco a nord rispetto alla nostra posizione Quella quindi di qua, dove dovrebbero esserci tutte le case Se vi ricordate il bambino ci aveva lasciato un disegno In cui ci era segnato una mappa del tesoro Potrebbe essere una cosa molto interessante Anzi, portiamoci via anche un po' di legna Perché se dobbiamo accendere un fuoco lungo la strada ci tornerà molto utile Sempre nella speranza che non incontro qualche lupo intanto che ci avventuriamo Perché se incontro qualche lupo gioco Prima partono le bestemmie, poi tu mi ammazzi E poi ripartono le bestemmie ancora una volta Oh, che bello, esploriamo zone nuove Cosa potrebbe mai accadere? Io non vedo l'ora che rilascino in maniera completa questo gioco Perché ho grandi aspettative L'ambientazione ce l'ha tutta Cioè l'atmosfera è qualcosa di incredibile Se TheLongDark avesse una grafica del genere Wow Se avrei coccato in mano più del solito Wow E questo cos'è? Ah, è un ennesimo carrettino alla cazzo Con dello scotch che prendono molto L'accetta? Ah no, è una pala Vabbè, prendila comunque ciccio Oh Ehi, aspetta È uno di quegli animaletti Beh, mi passa un uomo Grazie Carl È uno degli animaletti del bambino Se vi ricordate ne abbiamo trovato uno nella sua cameretta Guarda che qua si facessero le grandi grigliate E ho trovato un po' di oggetti strani E quella è un contenitore No, che cacchio è un pneumatico E vabbè, mi è andata male Cioè, ma praticamente scusate Questi si facevano i festini al lato della strada In mezzo alla neve e al gelo Facchetta che i canadesi sono strani Eh, ma vabbè Wow Ah, è chiuso Oh, è proprietà privata Me ne sbatto la minchia io Ah 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 Sono ribelle E venne assalito dei lupi Ok, dovremmo essere giusti Carl mi tira No, no, non la macchina fotografica Non sta a fare il turista, Carl Ok, la strada è giusta Vediamo un po' Cosa riusciamo a trovare qua attorno Se ci fosse anche un checkpoint Buongiorno Avete un checkpoint in casa? Salve Io entro senza un minimo di rispetto Ma Sono allergici alle lampadine da queste parti A quanto pare Ma porca di quella porca Certo che No, ma scusate Questi stavano al freddo e al gelo Con le cose sulla porta di 20 centimetri Minchia Ma i canadesi Ma che cacchio Ho capito che c'è la crisi Però Allora Oh oh Lei è un fucile Ho trovato un fucile Mandatemi contro tutti i lupi Non me ne frega un cazzo C'ho il fucile No, devo trovare il modo di Aspetta, aspetta Ciccio, stami dentro Non al freddo e al gelo Cortesemente Troviamo il modo di gestire meglio l'inventario Ok Vediamo come lo metto sulle cose brevi Lo mettiamo al 3 Che al 3 c'ha le sigarette Il Carl Io non fumo Carl Non mi rompere le palle Ok Ah, porco cane Che non ti faccio fumo Vediamo un po' Buongiorno Mi piace Mi piace Mi piace un sacco Certo un po' di ottica Non ci avrei sputato sopra Ma vabbè Ok Molto buono Sì ma Carla Quante munizioni abbiamo Per il signor fucile qua E vabbè Non lo sapremo mai Allora Vediamo intanto di accenderci Mezzo checkpoint Ok Ok Molto bene Il fucile ci tornerà utile Io spero che i lupi Non siano a respawn continuo Perché sennò Le mie bestemmie Saranno a respawn continuo Allora Il buon commentatore Mi ha detto Che qui la gente Sembra come se Avesse lasciato temporaneamente Per andare a farsi Una passeggiata E si aspettasse di tornare Vedete Non sembra neanche Che la gente Se ne sia andata Qui è proprio sparita Dove cazzo sono tutti Porca di quella porca E vabbè Vediamo se riusciamo a trovare Qualcosa Oh Carla prendimi l'accetta Oh Abbiamo l'accetta Oh sì Parliamone Abbiamo l'accetta What Altro che the long dark Che non ti fa usare L'accetta come arma Come C'è C'è nel logo del gioco L'accetta Non puoi non farmela usare Una questione di principio Il problema è che Se mi hanno dato il fucile L'accetta Vuol dire che molto presto Li dovremmo utilizzare Per difendere Il buon Carla Oh Oh Adesso vedo che ci sono Le impronte del lupo Mmm E come ogni persona Poco sana di mente Io direi Seguiamo le impronte del lupo Cosa potrebbe mai accadere Sto per bestemmiare Me lo sento Sto facendo Una grandissima cazzata Carla Tu conosci la signorina Gisualda di Ark Perché se no sapresti Che stiamo facendo Una immane cazzata Sembra che fossero Dei taglialegna Quelli che vivevano qua Perché ci sono Un sacco di alberi tagliati Speriamo che nessuno Mi insegua con tipo Una motosega Perché se no Veramente i porchi Ragazzi E che non si vede Talmente un cazzo Che mi aspetto Di essere attaccato Alle spalle Da un lupo E mi prendo Il jumpscare Della vita Ah Ah Dove Dove Ok Ah no 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 Maledetto Maledetto No 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 Aia Poi seguendo le impronte Paglioni Ok Carbonella Carbonella Cos'è questo Di attivare Penso Eccola Arrivare Tagliato Che desolazione E tristezza Ok Che ci sono i copyright Ok Copyright Possiamo accenderci Cos'è un mano Disegnata dal bambino Quindi Vediamo di dare un'occhiata Madò Speriamo di trovare cose utili E il bambino Ha segnato la tana Dei lupi Oh Grazie bambino Bambino Dove hai nascosto Le cose Bambino di merda Se non trovo Entro 5 minuti Vinci un calcio Super il culo Se sei ancora vivo Oh Eccolo là L'ho visto L'ho visto C'è un altro Di quei specie Di portali Demoniaci Come li chiamo io Che poi non so Cosa cacchio siano Ok Vediamo un po' Se troviamo cose Cosa Cosa hanno tentato Perché mi sa che Oh Un giorno scatola Non è finita bene Ancora caccia al tesoro Ah ma dai C'ero prima da quelle parti Ok ok Me la segno Aspetta E abbiamo trovato Anche mi pare dei proiettili No Oh Cosa per accendere il fuoco Bravo bambino che mi serve E la giraffa col monocolo Te la lascio Ok Vediamo di tornare A riscaldarci un po' Il culo Carl E poi partiamo Alla prossima caccia al tesoro Però Carl In tutta sincerità A augurarti in bocca al lupo Mi sentirei un po' Stronzo Quindi evitiamo Ok Allora dovremmo raggiungere Più o meno la casa Che si trova in quella direzione E Dovremmo essere vicini Al prossimo punto Della caccia al tesoro Ma veramente sto seguendo Delle mappe disegnate Da un bambino Cioè Vabbè Ok che probabilmente Il bambino ha visto cose Che non avrebbe dovuto vedere Ma probabilmente Ci potrebbe essere Di grande aiuto E laggiù vedo una casa Sembra che la tempesta Si sia un po' diradata O è la mia impressione Anche se ho la vecchissima impressione Che questa tempesta Non finirà fino alla fine del gioco Eh Lassù ci possiamo riscaldare Il problema è che veramente Non sto trovando più Accendini Sì fiammiferi E a quanto pare Il buon uomo qua Non è in grado di trovare Un cristo di fiammiferi In tutto il Canada Ma porca di quella porca È qualcosa che non dovrebbe mancare Oh La porta è chiusa Porca di quella porta Allora Un primo canadese Che non c'ha Né un orso Né uno zerbino Quindi la chiave Sarà probabilmente Nascosta in giro In maniera neanche Troppo furba Però la legna L'abbiamo trovata Quindi ci va di culo Il buon uomo Dove può avere Molto poco furbescamente Nascosto quella chiave Avanti Non mi faccia il preziosone Che poi chi cazzo Ti entra in casa Che oramai Ti potranno rubare Peraltro E che vedete Il gioco è in accesso anticipato Quindi ti sorge il dubbio La troverò la chiave È una zona che ancora Non ti permette di entrare I dubbi Cos'è un altro portale demoniaco Laggiù Andiamo a dare un'occhiata veloce Perché a sto punto Mi converrebbe provare A vedere se trovo Il coso del bambino Vediamo un po' A parte che dove sto andando Ah no Stiamo tornando indietro Vabbè E anche qua Un'altra stufa Come checkpoint Ne stanno mettendo Veramente tante Comunque Oh E cose dei lupi Tracce dei lupi Non mi ero accorto Porca di quella porca Devo stare molto attento Allora Accendiamo questo checkpoint Anche se non c'era bisogno Perché ce n'abbiamo uno A due metri più in là Ma vabbè Cercherò di attivarne Quanto più possibile Devo dire che questo gioco Sta facendo un ottimo lavoro Per quanto riguarda Il senso di desolazione Mi sento veramente Abbandonato In una cavolo di landa gelida Porca di quella porca No veramente ragazzi I sviluppatori di questo gioco Stanno facendo un signor lavoro Io ho alte aspettative Per quando La modalità trama Sarà praticamente completa E si Sto andando in direzione sbagliata Ma porco cane E sto facendo anche congelare Il culo al povero Carl Che già mi odia Peggio della signorina Di Di The Long Dark Quella di Ark Oh ok Tutte le mie signorine Mi odiano Siamo onesti Volevo solo un po' Di amore E comprensione Però Allora Dovrebbe essere da queste parti In teoria Proviamo a scalare un po' La montagna Perché a quanto pare Oh Siamo arrivati al limite Della mappa Oh Eccoti qua Perfetto Perfetto E un altro ne abbiamo risolto Vediamo un po' Cosa troviamo stavolta Ancora Ah Bambino Però proprio te Non avevi un cazzo di meglio Da fare Questo è anche bello vicino E mi regali Anche un proiettile Bravo bambino Continui a distribuirmi Giraffe Carla dove minchia Stiamo andando Mi tiri fuori mezza cartina Cortesemente Stiamo andando un po' In culo al mondo Però stiamo andando In direzione corretta Ok Portale demoniaco Anche qua E Nuova chest Perfetto Con Ancora Minchiava sto bambino Veramente si divertiva Proprio tanto 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 eh E 30 cosi Per la macchina fotografica Che non è che mi servissero Dove Bambino Ma dove mi stai guidando Uh Porco cane Qua mi sa di zona Che si aprirà un Au Wow Che cazzo è successo Oh Cosa avete combinato Voi altri Ok Tu sei andato a fare Cosa avete evocato Ragazzi miei Wow Oh Cosa avete fatto Mi siete sacrificati Wow Non mi spingete a me Che colpo Porco cane Mi hai preso un cavolo di colpo O questi hanno tentato Di evocare qualcosa O sono tentati Hanno tentati Di attraversare Verso un regno Boh Che cavolo ne sa Simboli strani E tante bestemmie Ragazzi miei eh Voi che fate Attraversate No Buongiorno Lei mi sa che è morto Però Ah no Ho capito adesso In realtà Solo due Delle quattro persone Sono entrate Perché se vi ricordate bene Abbiamo trovato solo due Dei quattro cadaveri Intendo quelli che abbiamo trovato Congelati Eh sì E il gioco mi ha detto Che nella demo Ancora qua Ce ne sono sbloccati Solamente due Quindi sì Purtroppo Dovremmo aspettare Che il gioco sia Rilasciato in maniera completa Porco cane Ero curioso di sapere Cosa diavolo Essere combinato Mio dio Ma veramente La gente di sto posto Che cacchio è andata a fare Ma farci una riga Di cazzi canadesi Propri no eh Ma che Andiamo a evocare Strane cose E buongiorno Cosa abbiamo trovato qua Wilfred Roy Ok Buongiorno Dimmi che la macchina Del signor Wilfred funziona Cosa abbiamo qui Ancora rullino Uno stivale Alla cazzo E' vero Dove può essere finito Il posseggero Il buon uomo Ha detto che praticamente Sembra che l'incidente Sia appena accaduto Dov'è la strada No E' vero Il lago ha completamente Ingoiato la strada Ma Ma porca di quella porca Dove minchia E' finita la strada Carla tira fuori Quella minchia di cartina Si manca la strada Ah Assolutamente normale Carla facciamo finta di nulla Facciamo tanto tanto Finta di nulla E Cominciamo a sentire il freddo Dobbiamo tornare Assolutamente a un checkpoint Perché Carla si sta Rincoglionendo E io mi sono messo a esplorare Come un povero pirla Senza Più farlo riscaldare Il poverino Che c'ha La minchia congelata Ok Quella strada ovviamente E' bloccata Perché ancora il gioco Non è stato completamente Rilasciato Poco male Perché vedo che comunque Abbiamo esplorato anche Un bel po' oggi E dobbiamo continuare Che la caccia Al tesoro del bambino Mamma mia Delle quest secondarie Ok Ecco qua Il nostro checkpoint Carla Così ti puoi Scaldare un attimino I testicoli Oh Mamma mia Oh No veramente A questo posto Mi sta mettendo Una desolazione incredibile Realizzato in maniera divina Sto gioco comunque Aspetta Aspettate che aggiungano Anche i vari personaggi La trama principale Sia completa E wow Io ve lo dico Kona ci riserverà Delle grandi sorprese Ma Noi Continueremo l'esplorazione Di questa Simpatica e caldo Posto Molto accogliente Soprattutto Nel prossimo episodio Ciao ciao E per la vostra gioia Abbiamo finalmente Incontrato i lupi Sono tanto bastardi Quanto quelli di The Long Dark E altrettanto mortali E a quanto pare Sono anche immuni Alle accettate sulle gengive Oppure sono io Che sbaglio Mira Tutto è possibile E ancora ci sfuggono Molte delle risposte E non avendo incontrato Ancora anima viva Restiamo ancora una volta Soli con le nostre domande Come sempre Vi ringrazio per aver visto Questo episodio E spero che vi sia piaciuto E che vi siate divertiti Se possibile Mettete un mi piace E condividete il video su facebook Per aiutare il canale a crescere Se siete nuovi Iscrivetevi Per non perdervi La prossima puntata Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao